torno infrasettimanale di serie d tra il termoli e il porto d'ascoli buona l'affluenza di pubblico tifosi giallorossi numerosi e rumorosi ospiti in maglia bianca termolesi con la cosetta casacca giallorossa righe e verticali primo tempo avaro di occasioni squadre speculari e quindi mancanza di gioco la squadra termolese si schiera con un 3 4 2 1 e tra le sue file ci sono anche due nuovi acquisti il numero 9 il centravanti defendi che è stato autore anche di un gol di alta classe e il difensore centrale con il numero 5 siciliano che oggi rivestiva anche la fascia di capitano ospiti a difendere secondo posto in classifica con sette punti la cronaca si giunge per vedere qualcosa di concreto al ventiquattresimo del primo tempo con il porto d'ascoli che con il suo centravanti folle di testa manda fuori la stessa cosa si ripete due minuti dopo al ventisesimo sempre sul calcio d'angolo e sempre palla fuori al trentaquattresimo c'è un primo tentativo da parte del termoli ma non sottisce gli effetti sperati al trentasettesimo il porto d'ascoli su punizione manda fuori mentre al trentottesimo arriva un calcio d'angolo con dopo un vero proprio tiro in porta da parte di carnevale il portiere della squadra avversaria testa devia in calcio d'angolo e sul seguente calcio d'angolo al quarantesimo arriva lo spettacolare gol di defendi che raccoglie il punto il corner e manda in gol con una splendida rovesciata che nulla può il portiere a scuola si passa adesso al secondo tempo il primo minuto sempre sul calcio d'angolo c'è un colpo di testa del bomber defendi che finisce di poco al lato a pochi centimetri dal palo alla sinistra del portiere testa c'è poi al quinto il porto d'ascoli che cerca di prestire un'azione ma la palla non sottisce gli effetti sperati appunto dal porto d'ascoli all'ottavo assistiamo a tre sostituzioni da parte della squadra in maglia bianca e arriviamo al quindicesimo quando sul punizione caprioli indovina l'angolino giusto e in fila direttamente il pallone in gol con merelli proteso in tu forma che nulla potuto poi ci sono altri tentativi al ventesimo al ventunesimo al ventisettesimo e poi ancora nei cinque minuti di recupero c'è ancora qualche tentativo del termine ma il risultato non cambia il risultato è di 1 a 1 termoli che conquista il primo punto e il appunto il porto d'ascoli che continua con la sua imbattibilità che dimostra che appunto una squadra molto tosta adesso domenica prossima si andrà a roma con la squadra roma city che potrebbe essere la portata del tempo speriamo che arrivi la prima vittoria per i giallorussi